Conoscere l'Unione Europea, i suoi programmi e le opportunità di finanziamento. È stata inaugurata in Via Egiziaca a Pizzo Falcone la nuova sede del Centro Europe Direct gestito dal Comune di Napoli. Oggi inauguriamo la nuova sede del Centro Europe Direct qui a Via Egiziaca a Pizzo Falcone. Questa sede ha un forte valore simbolico perché, come si vede affacciandosi dai balconi, siamo proprio nel cuore, nel centro storico di Napoli, nei vicoli. Abbiamo vinto questo bando della Commissione Europea che ci finanzia il funzionamento di questo centro. Abbiamo numerosi partner, più di 20 partner tra università, associazioni, istituzioni che collaborano con noi a questo progetto importante e abbiamo una programmazione triennale. Oltre a uno sportello informativo, il centro organizza eventi culturali e convegni. La prima riflessione pubblica, affidata a due esperti dell'Università Orientale di Napoli e dell'Università di Bologna, ha affrontato il tema delle politiche di austerità dell'Europa e come queste incidono sulla dignità dei popoli. Questa è la grande lotta che si sta facendo e se si riesce a preservare e salvaguardare i beni comuni e gli interessi costituzionali senza cedere al ricatto dell'austerity, del pareggio di bilancio, del fiscal compact e delle scelte che sono state fatte in Europa e in Italia da tanti anni. Questa è la vera sfida. Pongo questa domanda, vendere tutto, vendere i patrimoni immobiliari, vendere la fontana di Trevi a Roma, vendere il Castel dell'Ovo, vendere il Maschio Angioin, serve per migliorare la qualità dei servizi? No, serve per pagare gli interessi per delle comunità che sono sotto usura. Il tema è questo. Quando tu devi pagare un debito così alto, di cui non sei affatto responsabile, è come se noi fossimo soggetti sotto usura e che non andiamo, vendiamo per pagare interessi e il cittadino non ha nulla in più rispetto a prima. Invece fare operazioni di resistenza significa far capire che tu puoi costruire un'alternativa rispetto a questa.